Dio nostro e Padre nostro, ti ringraziamo per averci fatto riunire oggi, ti preghiamo di precederci in questo luogo e nei nostri cuori, e permetterci oggi di poter tornare a te ancora una volta, nel nome di Gesù. Amen. Rimanete in piedi per la lettura biblica che si trova in Luca 8, 35-39. La gente allora uscì per vedere ciò che era accaduto e venne da Gesù, e trovò l'uomo dal quale erano usciti i demoni seduto ai piedi di Gesù, vestito e sano di mente, ed ebbe paura. Or quelli che avevano visto l'accaduto raccontarono loro come l'indemoniato era stato liberato. Allora tutta la popolazione della regione dei Gadareni chiese a Gesù di allontanarsi da loro, perché erano in preda a un grande spavento, e Gesù, salito sulla barca, tornò indietro. Intanto, l'uomo da cui erano usciti i demoni lo pregava di poter restare con lui, ma Gesù lo congedò dicendo, «Ritorna a casa tua e racconta quali grandi cose Dio ha fatto per te». Ed egli se ne andò per tutta la città proclamando le grandi cose che Gesù aveva fatto per lui, che Dio benedica la sua parola. Quando leggiamo la Bibbia, anche superficialmente, restiamo colpiti nel vedere quanto spesso Dio chiede alle persone di andarsene. Abramo, che è il prototipo della fede, senti Dio che gli diceva, «Vai via dal tuo paese, lascia la casa di tuo padre, va nel paese che ti mostrerò». Quante volte Dio comanda ai Suoi servitori, ai Suoi figli, di andarsene? D'altronde, siamo chiamati viaggiatori e stranieri sulla terra. Pensiamo a tutte quelle persone che Dio ha chiamato ad andare lontano, a predicare l'Evangelo, a lasciare il proprio paese. E spesso ci colpisce meno l'ordine che Dio dà di tanto in tanto, di tornare a casa. E tuttavia, ce ne sono di più di quanti ne potremmo vedere oggi, perché vi consiglio di vederne sette. Sette volte tra le tante in cui Dio dice, «Torna a casa». Il primo esempio che vorrei prendere si trova nel libro della Genesi al capitolo 16, dove apprendiamo che Abramo ha un figlio da Agar, la serva. Un figlio che si chiama Ismaele. E siccome sta per avere il figlio che Sara non ha potuto avere, diventa arrogante, fiera e insopportabile, al punto che Sara e Abramo decidono di mandarla via. Abramo manda via Agar e suo figlio. Lei se ne va nel deserto. Si ferma presso una sorgente d'acqua. E il testo ci dice che l'Angelo dell'Eterno le si avvicina dicendole, «Da dove vieni? E dove vai?» Cosa stai facendo qui? Risposta di Agar, «Fuggò lontana dalla mia padrona». Ci si aspetterebbe che l'Angelo le dica, «Ah, poverina, sei stata davvero maltrattata! Ma per fortuna c'è qua il Signore!» No, per niente! Genesi capitolo 16, versetto 9. Allora l'Angelo dell'Eterno le disse, «Torna dalla tua padrona e sottomettiti alla sua autorità». Probabilmente non è quello che Agar avrebbe voluto ascoltare. Avrà sicuramente ricevuto delle promesse. Ma la prima cosa che l'Angelo le dice è, «Torna a casa là e umiliati!» Lei aveva questo atteggiamento arrogante e superiore. E l'Angelo le dice, «Torna e sottomettiti!» Non è nella nostra natura sottometterci. D'altronde si comincia così. Ricordate Adamo ed Eva che avevano avuto difficoltà a sottomettersi. Era più facile sottomettersi al diavolo. Eppure Dio dice Agar, «Torna a casa e impara la sottomissione!» Il Nuovo Testamento non ci dice niente di diverso. Guardate nella lettera di Paolo ai Filippesi, agli Efesini, scusate, lettera di Paolo agli Efesini, capitolo 5. Efesini, capitolo 5. Versetti 20 e 21 dicono, «Rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio e Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, sottomettetevi gli uni agli altri nel timore di Dio.» Sottomettetevi gli uni agli altri e se continuate a leggere, vedrete che Paolo parla della famiglia, della sottomissione reciproca all'interno della famiglia. Nella prima lettera di Pietro, al capitolo 2 e al versetto 13, si trova anche questo appello. Prima lettera di Pietro, capitolo 2, versetto 13, «Sottomettetevi dunque per amore del Signore ad ogni autorità umana.» Si può ancora accettare di dire, «Ok, va bene, mi sottometterò a Dio», ma sottomettersi a un'autorità costituita dagli uomini è un'altra questione. Saremmo tentati di dire, «Ah, lo Spirito Santo mi ha detto che...» «Io sono sottomesso a Dio», ma Dio ci dice, «Siate sottomessi agli uomini.» «Torna a casa e sottomettiti.» Sentite oggi il Signore dirvi, «Torna a casa e impara a sottometterti.» Come impareremo a sottometterci a Dio che non vediamo se non abbiamo imparato a sottometterci gli uni agli altri che vediamo?» Gli specialisti dell'educazione dicono che un bambino all'età di sei anni deve aver imparato a ubbidire ai suoi genitori, perché se non ha imparato ad ubbidire ai suoi genitori all'età di sei anni, non si sa quando finalmente riuscirà ad ubbidire ai suoi genitori. E gli studiosi cristiani dicono che se un bambino non ha imparato ad ubbidire ai suoi genitori, non imparerà nemmeno ad ubbidire a Dio. «Torna a casa e impara la sottomissione.» Il secondo esempio che vorrei guardare con voi si trova nell'altra estremità della vostra Bibbia, nella lettera di Paolo a Filemone. Onesimo è uno schiavo che è fuggito e se ne è andato via, probabilmente portandosi la cassa. Sì, perché doveva riuscire a sopravvivere. Quindi è partito con la cassa ed è andato anche lontano, ha potuto permettersi un viaggio fino a Roma, perché è più facile nascondersi tra la folla che nel deserto. Così Onesimo partì per Roma. Il problema è che se Onesimo viene ripreso come schiavo che è fuggito, ci sono molte probabilità che venga punito con la morte. Oppure lo marchieranno con il ferro rovente. Un marchio indelebile. Questo è un latitante, state attenti. A Roma andrà girando in tondo e probabilmente avrà avuto questa lotta interiore con la propria coscienza. Fino a quando non capirà che c'è a Roma qualcuno che conosce bene, si chiama Paolo. E lo conosce bene perché è lui che ha battezzato il suo padrone, Filemone, a Colosse. Quindi va a trovare Paolo, un uomo che rispetta e va a trovarlo in prigione. E Paolo gli parla di ciò che gli sta più a cuore, cioè di Gesù, il suo salvatore. E gli dice, ma come? Il tuo padrone ha accettato Gesù e tu che fai? Stai cercando di scappare? Ah, non chiedetemi quanti studi biblici l'Apostolo Paolo gli diede. Ma quando l'Apostolo Paolo dava degli studi biblici lo Spirito Santo aggiungeva la sua forza ed era efficace. Onesimo accetta Gesù come suo salvatore e l'Apostolo Paolo gli dice da parte del Signore torna a casa. Ti scriverò una lettera, una lettera di raccomandazione. E in questa lettera, al versetto 12 scrive a Filemune il padrone di questo schiavo che era fuggito con la cassa te l'ho rimandato or tu accoglilo come se ricevessi il mio stesso cuore. E un po' più avanti, nello stesso testo, al versetto 16 dice forse al versetto 15 forse per questo motivo egli è stato separato da te per breve tempo perché tu lo riavessi per sempre non più però come schiavo ma molto più che schiavo come un fratello a me carissimo. In altre parole l'Apostolo Paolo sta dicendo a Onesimo torna a casa e servi il tuo padrone come un fratello e dice a Filemune ricevi il tuo schiavo e abbi cura di lui come un fratello. Si rimprovera spesso all'Apostolo Paolo di non aver messo fine alla schiavitù. Gli è stato rimproverato di non aver organizzato uno sciopero generale delle manifestazioni con dei cartelloni. Ma l'Apostolo Paolo aveva a disposizione un'arma molto più potente dei cartelloni delle manifestazioni e degli scioperi. Ha condotto sia lo schiavo che il padrone a Gesù Cristo alla conversione e in questo modo la schiavitù è stata demolita dall'interno non dalla forza ma dalla potenza di Dio. Torna a casa e servi il tuo padrone. Sentite oggi il Signore che vi dice torna a casa e impara a servire qualunque siano le circostanze. Impara a servire senza aspettarti delle lodi. Impara a servire senza aspettarti degli onori. Impara a servire senza aspettarti dei riconoscimenti. Servi senza firmare ciò che hai fatto affinché tutti lo sappiano. Servi dietro le quinte. Quando nessuno guarda servi Dio attraverso gli uomini. non servire te stesso facendo credere che servi Dio. Torna a casa e impara a servire. Il terzo esempio lo troviamo anche nel Nuovo Testamento in una parabola che conoscete bene che si trova nel Vangelo di Luca al capitolo 15. una bellissima storia che Gesù racconta di un giovane che decide di uccidere suo padre cioè di dire a suo padre se tu potessi morire subito potrai prendere l'eredità e poi servirmene. Quindi se tu potessi morire subito sarebbe un buon affare. In effetti è più o meno quello che ha detto. Gli dice basta dammi la parte di eredità normalmente questo avviene quando quando il padre muore ma nella sua testa era già morto dammi i soldi e se ne è andato con quelli ha sperperato tutto quello che aveva ricevuto e ha fatto la bella vita perché con i soldi si può fare la bella vita per un po' più se ne ha più tempo dura ma nel testo ci viene detto al versetto 17 allora rientrato in sé disse quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza io invece muoio di fame mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò padre ho peccato contro il cielo e davanti a te e non sono più degno di essere chiamato tuo figlio trattami come uno dei tuoi lavoratori salariati attraverso l'azione dello spirito santo Dio ha detto a quest'uomo va a casa da tuo padre torna a casa perché ha dovuto vivere un'esperienza che è l'esperienza del pentimento e dell'umiltà l'esperienza del pentimento è qualcosa di particolare e indispensabile per il cristiano ma nella nostra mente pentirsi è pentirsi di una colpa che abbiamo commesso abbiamo fatto una sciocchezza pentirsi di un cattivo pensiero di una cattiva azione di una parola cattiva ci pentiamo confessiamo domandiamo a Dio di perdonarci ma questo modo di pensare tradisce ancora in noi la mentalità della salvezza per opere perché infatti il pentimento è molto di più che chiedere perdono anche rammaricarsi per un peccato un pensiero una parola non è solo necessario pentirsi di un'azione è necessario pentirsi di ciò che siamo perché noi siamo peccatori e quando abbiamo imparato a pentirci di ciò che noi siamo a pentirmi di chi sono perché il fatto che io sono peccatore ha richiesto la morte di Gesù per me è stata necessaria e per di più Gesù sarebbe morto in croce anche se fossi stato l'unico sulla terra ad averne bisogno è molto più che pentirsi di una cattiva azione di qualcosa che abbiamo fatto di sbagliato vuol dire pentirsi di un problema di fondo molto più serio è ciò che io sono ed è ciò che io sono che commette tutte queste stupidaggini e alla fine ci pentiamo molto superficialmente perché dopo qualche giorno lo sapete molto bene si ricomincia questo figlio al prodigo ha sentito nel suo cuore rientra a casa ma avete notato il testo dice rientrato in sé per poter rientrare a casa aveva bisogno di rientrare in sé di guardare dentro di sé ciò che c'era e che necessitava di tornare a casa aveva bisogno di dirsi andrò a dire a mio padre non sono degno di essere tuo figlio trattami come un servo che è trattato meglio di quanto io meriti adesso c'era senz'altro nella mente di quest'uomo interesse a tornare ad una vita dignitosa ma rientrando in sé aveva visto che vi era qualcosa in lui di profondo che doveva essere cambiato vi era questa indegnità di essere quello che era separato per ciò che aveva fatto e avete notato non confessa a suo padre ciò che ha fatto confessa confessa a suo padre ciò che è non sono degno sentite oggi il signore che vi dice torna a casa e pentiti di quello che sei di chi sei è necessario rientrare a casa e rientrare in sé per prendere coscienza di chi siamo e di quanto è costata la nostra salvezza il quarto esempio in cui Dio dice torna a casa si trova anche nel Vangelo di Luca al capitolo 8 Gesù si reca in un territorio non ebraico dei Geraseni dall'altro lato del lago di Galilea e lì viene accolto da un uomo posseduto dai demoni e non solo uno o due si chiama legione quindi Gesù è davanti a una legione di demoni forza ineguale e tuttavia Gesù legge nel cuore di quest'uomo un ardente desiderio di essere liberato e Gesù lo libera da tutti i demoni che vanno tutti in un branco di porci branco di porci che poi precipitano giù giù dal dirupo e muoiono il testo ci dice al versetto 35 la gente allora uscì per vedere ciò che era accaduto e venne da Gesù e trovò l'uomo dal quale erano usciti i demoni seduto ai piedi di Gesù vestito e sano di mente ed ebbe paura trovo difficile immaginare cosa debba aver significato la liberazione per quest'uomo un uomo che era completamente interamente sotto il controllo del diavolo e quest'uomo ridiviene quello che è veramente sano di mente vestito ai piedi di Gesù questa liberazione è per lui insperata straordinaria inimmaginabile impensabile e lo è anche per chi gli sta attorno che comincia ad aver paura ecco qualcuno che libera dai demoni hanno paura di lui e quest'uomo vi ricordate vede Gesù risalire sulla barca e gli dice voglio restare con te e lo capisco io avrei fatto la stessa cosa potete immaginare l'ho appena liberato da una possessione incredibile non voglio lasciare andare questo Gesù voglio restare con lui portami con te ovunque tu vada ma Gesù gli dice versetto 39 ritorna a casa tua e racconta quali grandi cose Dio ha fatto per te ed egli se ne andò per tutta la città proclamando le grandi cose che Gesù aveva fatto per lui il resto di questa storia si trova nel Vangelo di Matteo al capitolo 14 dove Gesù ritornerà in questo territorio e sarà accolto da questa gente non ebrea meglio che dalla gente del suo stesso popolo perché quest'uomo aveva testimoniato di quello che Gesù aveva fatto per lui ritorna a casa tua torna a casa e racconta a ciò che Dio ha fatto per te abbiamo qui la ricetta della testimonianza secondo Gesù la testimonianza è dire ciò che Gesù ha fatto per noi il problema è che forse troppi tra noi non sono capaci non sono più capaci di dire ciò che Gesù ha fatto per loro o forse è una storia che risale a 40 anni fa e che tutti conoscono già a memoria perché non ne abbiamo un'altra da dire da allora allora se non si è veramente capaci o non più capaci di dire cosa Dio ha fatto per noi cosa diremo o lo sapete benissimo se non riusciamo a dire ciò che Gesù ha fatto per noi allora diremo osserva il sabato dai la decima smetti di fumare smetti di mangiare carne eccetera eccetera ma questa non è una testimonianza è una controtestimonianza se non siamo capaci di dire ciò che Gesù ha fatto per noi restiamo zitti sentite oggi il Signore che vi dice racconta a casa tua ciò che Gesù ha fatto per te o sapete non è poi così difficile raccontare fuori un sacco di cose sul Signore ma curiosamente una sorta di pudore spirituale fa sì che in casa non se ne parla più non diciamo non diciamo più niente è forse più facile pregare con gli altri che con la nostra famiglia con nostra moglie con nostro marito con i nostri figli in definitiva torna a casa e racconta a casa tua ciò che Dio ha fatto per te forse c'è qui una possibile ricetta affinché la prossima generazione segua le orme dei propri genitori spirituali torna a casa e impara cos'è la vera testimonianza la quinta storia che vorrei ricordare con voi si trova nel secondo libro dei re al capitolo 4 una storia interessante di una donna vedova e questa donna vedova dei figli il problema è che ha dei debiti e dunque il creditore sta per venire e siccome è vedova il creditore vuole prendere i suoi figli per farne degli schiavi allora corre da Eliseo e gli chiede soccorso vede il profeta e che cosa bisogna fare allora il profeta le fa una strana domanda cosa ha in casa niente è per questo d'altronde che i creditori vogliono prendere i suoi figli perché non c'è niente da prendere a casa sua ah sì vero ho un vasetto d'olio allora è detto al versetto 4 secondo il libro dei re capitolo 4 versetto 4 quando sei rientrata chiudi la porta dietro di te dei tuoi figli poi versa l'olio in tutti quei vasi mettendoli da parte man mano che saranno pieni conoscete la storia non ho altro che un vasetto d'olio non ho altro che un vasetto d'olio ma non appena versa l'olio in tutti i recipienti che è riuscita a trovare all'improvviso avvia un commercio di olio nel suo villaggio paga il suo debito vendendo quest'olio di prima qualità ma il profeta le dice torna a casa e là versa l'olio ma affinché tu abbia molto olio bisogna che tu faccia qualcosa c'è una condizione da compiere devi andare a cercare tutti i recipienti possibili e immaginabili in tutto il villaggio finché avrai riempito la tua casa e vi ricordate la storia quando riempie l'ultimo recipient l'olio si ferma aveva bisogno di imparare a conoscere le condizioni in base alle quali il miracolo si doveva compiere e sapete che nelle scritture l'olio è un'immagine dello spirito santo l'apostolo paolo nella lettera agli efesini ci dice siate ripieni di spirito e al capitolo 3 ci dice siate ripieni di tutta la pienezza di dio abbiamo l'impressione che sia più di quanto possiamo immaginare più di quanto meritiamo questo è certo ma è l'obiettivo che dio aveva in programma per noi siate ripieni di spirito prendete tutti i recipienti possibili e l'olio scorrerà fino alla pienezza di dio se siete aperti ad esso questa donna aveva bisogno di imparare quali sono le condizioni per essere riempita di spirito santo e dio ci dice oggi rientra a casa rientra in te e conosci quali sono le condizioni per essere riempito di spirito santo non sarà necessariamente sollevando le braccia al cielo non sarà grazie a slanci emotivi non avverrà necessariamente durante assemblee straordinarie non sarà necessariamente con un con un colpo di fulmine che ti farà sentire tutto perché ti ha attraversato la colonna vertebrale non sarà un'esperienza emotiva particolare ci sono delle condizioni per essere riempiti dello spirito santo ascoltate questo commento è mediante lo spirito che dio opera nel suo popolo il volere e l'agire per il compimento del suo disegno d'amore molti non acconsentono a sottomettersi a quest'azione perché vogliono conservare la propria libertà è per questo che non ricevono la grazia celeste il dono dello spirito è dato solo a coloro che aspettano umilmente dio e cercano la sua guida e la sua grazia sentite sentite oggi il signore dirvi torna a casa e impara a conoscere le condizioni per poter essere riempito di spirito santo torna a casa e aspettati che il signore ti riempia del suo spirito se segui le istruzioni la sesta storia a cui vorrei fare riferimento si trova nel Vangelo di Matteo in cui troviamo il il Sermone sul Monte Vangelo secondo Matteo capitolo 6 Gesù si confrontava regolarmente con le persone del suo popolo che avevano questa certezza e arroganza che amavano far capire che erano persone molto spirituali e nel Vangelo di Matteo al capitolo 6 al versetto 6 è detto ma tu quando preghi entra nella tua cameretta chiudi la tua porta e prega il padre tuo che è nel segreto e il padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà pubblicamente quando preghi torna a casa sapete quanto è difficile pregare quando siamo nel tumulto del mondo bisogna chiudere le orecchie e gli occhi per poterci elevare a Dio preghiamo per i pasti preghiamo negli incontri preghiamo alle riunioni di preghiera eccetera ma Dio ci dice torna a casa entra nella tua camera chiudi la porta e parla con Dio non la ripetizione no non è la ripetizione che reciti ai pasti no non questo parla con Dio ascoltate questo commento dal libro educazione molte persone anche nei momenti che dedicano all'adorazione non riescono a ricevere la benedizione che porta la vera comunione con Dio hanno troppa fretta si affrettano ad attraversare il cerchio della presenza amorevole di Cristo forse si fermano un attimo ma non aspettano il minimo consiglio non hanno tempo per stare con il divino maestro e carichi dei loro pesi ritornano ai loro impegni vi è capitato di completare la lista dei compiti e tra i doveri quotidiani c'è un momento di preghiera un momento per la lettura della Bibbia e spunti 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 è fatto carichi dei loro pesi ritornano ai propri impegni oppure questo commento qui satana non può sopportare che qualcuno invochi il suo potente rivale perché è preso da paura e trema davanti alla sua potenza e maestà al suono della preghiera fervente tutto l'esercito di satana trema quando la mia preghiera fervente ha fatto tremare tutto l'esercito del nemico quando è stata l'ultima volta che è successo quando è stata l'ultima volta che ho trascorso un'ora o due o più ore lottando con Dio e dicendogli non ti lascerò andare finché tu non mi abbia benedetto è facile prendere in giro quelli che hanno le ruote della preghiera e fanno girare le ruote della preghiera o che accendono una candela finché la preghiera continui mentre loro vanno a fare la spesa ed è ancora lì che brucia nella chiesa ma noi abbiamo anche noi le nostre ruote di preghiera non ripetiamo sempre la stessa cosa senza nemmeno necessariamente pensarci anche solo la formula nel nome di Gesù Amen il che significa che è finita si racconta che Abraham Lincoln un giorno ebbe un incontro con un re un personaggio importante e al momento dell'incontro Abraham Lincoln non c'era questo è un affronto una violazione del protocollo intollerabile e questo re ha aspettato ha aspettato e ha aspettato abbastanza a lungo da divenire impaziente e quando finalmente Abraham Lincoln è arrivato gli ha detto vogliate scusarmi avevo appuntamento con il re dei re sentite oggi il Signore dirvi torna a casa e prega il padre tuo che è nei cieli torna a casa e impara a parlare con Dio cuore a cuore quando lo hai fatto l'ultima volta e poi il settimo elemento che vorrei citare in cui Dio ci dice torna a casa si trova nel Vangelo di Giovanni al capitolo 14 dove è detto al versetto 3 e e quando sarò andato e vi avrò preparato il posto ritornerò e vi accoglierò presso di me affinché dove sono io siate anche voi e dal momento che avete la vostra Bibbia guardate nel Vangelo secondo Matteo al capitolo 25 Matteo capitolo 25 il versetto 34 Matteo 25 versetto 34 ci dice questo venite benedetti del Padre mio ricevete in eredità il regno che vi è stato preparato sin dalla fondazione del mondo il Signore ci manda è vero come ha mandato Abramo e tanti altri ci dice va ed io sarò con te ma spesso ci dice torna a casa perché colui che ci invia ha sempre un piano quando ci manda ma anche un piano quando ci dice torna a casa c'è qualcosa che dobbiamo imparare quando ci dice va ma c'è anche qualcosa da imparare quando ci dice torna a casa e senza alcun dubbio noi abbiamo bisogno di tornare a casa e di imparare ciò che il Signore ha in mente quando rientriamo a casa e se avete l'impressione di non aver imparato tutte le lezioni necessarie quando torniamo a casa quando il Signore ci dice torna a casa allora vi invito ad affrettarvi ad imparare queste lezioni perché il tempo di tornare a casa arriva presto Amen